Io in queste ore sto ragionando con il ministro Toninelli e con il ministro Di Maio per cercare di trovare quelle soluzioni che questo comparto ha bisogno. L'idea è quella di confrontarci su pochi atti ma concreti. Vediamo quali però, cerchiamo di capire quali. Il fatto che io sia qui serve anche a capire effettivamente con i diretti interessati che cosa c'è realmente bisogno. Sui decreti attuativi guardi io ho un problema grosso come il mare che quando sono arrivato il primo di giugno avevo 83 decreti attuativi da attuare quindi sono un'enormità. Tempi io spero entro fine anno.